Ciao a tutti, io sono Els e vi do il benvenuto in un nuovo episodio di Cosa a Caso Show, la rubrica dei video più particolari che ci sia. Ripensando alla Disney, di cui ormai lo sapete sono un grande amante, mi è venuto in mente che nel corso degli anni l'intro che si vede ogni volta ad inizio film o classico targato Disney è cambiato spesso. Più che cambiato, è meglio dire che a seconda del film che presentava, gli autori lo personalizzavano. Quindi ho deciso di fare questo video per farveli vedere tutti, cercando di non perderne nessuno per strada, anche se difficile perché ne sono state fatte un sacco di varianti. Se per caso ne mancherà qualcuno, chiedo venia. Non indugiamo oltre e via il video! Non indugiamo oltre e via il video! Non indugiamo il video! ... ... ... ... Grazie a tutti. 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 I'm gonna tell you a story now. Grazie a tutti. 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 Noi ci vediamo al prossimo video.